Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale dei Cugins, io sono Alessio e oggi per questo nuovo video siamo su Minecraft, nel server Fjr Games E oggi giocheremo nella modalità Skyblock Allora, entriamo nella modalità Allora questa qui è la mia, cioè, no, la mia isola E' l'isola di XmrGamerotax E sarebbe il capo che mi ha gentilmente invitato No, mi sa che non siamo nella top ten No, non ci stiamo E quindi il menti mi ha invitato Questo, XmrGamerotax Poi inoltre ci stanno anche LorisStand3 e XkentGaming che fanno il nostro clan Il nostro clan è stato creato da Tony Carioli principalmente E anche Xfrank e io Però ormai Xfrank non gioca più su sto server Quindi siamo rimasti io e Tony Il clan comprende circa 20 membri I più forti dello Skyblock Tranne uno Un membro del clan ragazzi è veramente scarso Si chiama Dedox Quindi se lo incontrate a PVP Dedox Killatelo Perchè se lo merita Perchè uno non può essere così scarso Queste sono le ceste O lì le armature Vabbè E questa Sta anche piano di sopra Questa è l'isola di XmrGamerotax Piano di sotto ci sta Sì Prima stavo con RedzMonster E sono lì il vagabondo Quindi sono andato in isola con Con questo qui Andiamo nel Warp preferito da me Warp PVP Cioè io praticamente sto sempre qui Non build non faccio niente Ma ho uscito solo gli altri giocatori E basta Ci tenevo a ricordarvi che a breve Sarà presente il Factions Anche sul server Dragonborn Quindi vi lascio l'IP nei commenti In modo che ve l'ho detto prima Così possiamo iniziare tutti insieme E nessuno rimane indietro Quindi vi aspetto numerosi Sul server Dragonborn E inoltre insieme a dei miei amici Stiamo creando un server da zero Molto figo Dove a breve uscirà un trailer Sul mio canale E anche lì Però quel server uscirà tra circa un mesetto Quindi restate aggiornati Un po' lì giocheremo tutti insieme Potrò portare nuove serie come La Staff Series Troll al Laker E quant'altro Vabbè lo spawn Il Warp PVP è vuoto Perché sanno che quando c'è Vai Violins Non bisogna andare No Fate le stonzate Poi qui è lo shop Molto grande Poi c'è anche il Warp Farm E qua Dove si ferma le galline Le mucche E i polli Trovo sia utile Perché se venite qui con Con la spada Con l'aspetto di fuoco Avete la carne È bella cotta Però non andate a mangiare Ben cotta l'avete la carne Non al sangue Anche se a me mi piace Una via di mezzo Né al sangue Né ben cotta Questi sono i Vip Vip o Sky Legend Che vi da un sacco di roba Non lo so dove sta l'anteprima Ah eccola Vi da una protezione 4 Ecco Tipo la spada con l'aspetto di fuoco L'aspetto di fuoco 2 Dove andate nella farm di polli E avete tanta carne cotta Questo è il Sky Angel Ci da protezione 3 Va bene Puoi scendere Protezione 2 Protezione 1 Poi c'è il Warp Ranks Per aumentare di grado Io sono al rank nobile Rank nobile Ho pochi soldi eh Perché dopo Ho donato tutto A un mio amico Alex Prima ero Straricco Poi sono diventato Un povero della miseria Vediamo quando mi manca Mi manca Due ore No di meno Un'ora e mezza Questo è il rank sacerdote Che bisogna avere 8000 power In campi Una chiave magic Una chiave magic E quattro blocchi diamanti Mi sa che ci vado a perdere eh Ritorniamo al pvp Per vedere se è entrato qualcuno Ah Let's Seven Questo è uno del clan Dove ce la contentiamo al pvp Ogni tanto vince lui Ogni tanto vinco io Cioè quando facciamo pvp amichevole Perché sono lo stesso clan E lui E lui è chiamato il mercenario Perché lui prima Stava nel clan nemico Aveva ritornato con noi Poi aveva ritornato nel clan nemico Poi aveva ritornato con noi Lui è il mercenario Stava nel clan Per convenienza E vabbè E questo è Lo skyblock Di fear games E questo è Lo skyblock Di fear games Spero che il video vi sia piaciuto Come sempre vi ricordo Di lasciare like Commentare Condividere con i vostri amici E se non siete ancora iscritti Iscriveteci E noi Nei commenti Fatemi sapere Se volete La serie Actions Sul server Dragon Buns E ci si becca al prossimo video Bella Ciao Ciao